Monodemar è imbattibile e riesce a imporsi per la quarta volta in questo Giro d'Italia anche sul traguardo di Rimini. Amiche ed amici appassionati di grande ciclismo, buon pomeriggio e benvenuti su Melino Sporciano e ragazzi, quest'oggi post tappa dell'undicesima frazione di questo Giro d'Italia. Si partiva da Porto Sant'Elpidio nelle Marche in provincia di Ancona, mi sa? No, di Macerata forse. E si arrivava a Rimini, sul lungomare della città della Romagna. Era una tappa dedicata alle ruote veloci, che però comunque ha avuto anche qui una storia importante anche oltre alla volata. La fuga era costituita da cinque uomini, i due corridori della Barriani CSF Faizanè, Fabio Mazzucco e Francesco Romano, il fugaiolo d'eccezione Marco Frapporti della Vini Zabu KTM, poi c'era anche un corridore dell'Android G4 di Siderme, che si trattava del Trentino Bice, e unico corridore di una squadra World Tour, Sander Arme, belga della Lotto Saudal. Per quanto riguarda il GPM, niente da dire, mi pare che se lo sia preso Bice, se non erro. Successivamente si entra in una zona un po' valonata, ma niente assolutissimamente di che, fino allo sprint intermedio di Coriano, dopo aver superato Misano, Santa Monica, aver costeggiato quasi il circuito di Misano Adriatico. Si entra appunto a Coriano, città natale della buonanima di Marco Simoncelli. Il secondo sprint intermedio va a Romano su Marco Frapporti. Per quanto riguarda la fuga, la fuga ha raggiunto un vantaggio massimo intorno ai sei minuti, se non erro, però ai venti dall'arrivo c'era Arme, che era solo perché aveva staccato tutti i suoi compagni di fuga, che aveva due minuti di vantaggio e c'era soltanto la gruppa MFDG che tirava in gruppo. Ovviamente nessuno aiutava la squadra di quello che è il leader, in discusso delle volate, in questo Giro d'Italia. Successivamente però, a causa di un tratto di strada molto largo, con vento contro praticamente, l'azione di Arme si è spenta in pochissimi chilometri. Nel frattempo sono arrivate anche altre squadre a lavorare. Pensiamo all'Israel Startup Nation di Rick Zabel e Davide Cimolai, Pensiamo alla De Koenig di Ballerini e Dioggi, oltre che di Almeda, ma parliamo di uomini per le volate. La UAE Team Emirates che ha tirato non troppo convinta per Fernando Gaviria. Diciamo che c'erano tutti questi uomini interessati alla volata. Cade purtroppo Elia Viviani che non disputerà lo sprint, cade a causa di un motociclista che lo investe in una rotatoria. Fortunatamente gli è uscito un po' di sangue dal ginocchio, però si dovrebbe riprendere tranquillissimamente. E non dovrebbe abbandonare la corsa. Comunque, intervista intanto ad Arno Lemar. Negli ultimi chilometri c'erano tantissime difficoltà planimetriche. Infatti, si andava un po' avanti e indietro per le strade del centro di Rimini. È stata una volata davvero difficile da impostare, però i gruppi amarri sono stati perfetti, assolutamente. Perché si sono mossi con Ignatas Conovalovas e con Jacopo Guarnieri al momento giusto, entrati negli ultimi 1200 metri di gara. In precedenza avevano tirato anche la Israel. La UAE che ha cercato di anticipare è... invece non c'è stato verso. Arno Lemar che prende ovviamente la ruota del suo fido scudiero Jacopo Guarnieri, che lo scorta fino agli ultimi 400 metri, poi prende lui il controllo delle operazioni. Anche a causa dell'anticipazione di Gaviria che cerca di scattare in anticipo. Gaviria si trovava sulla ruota di Arno Lemar. Lo scatto di Gaviria però si spegne molto molto rapidamente, così Demar resta praticamente solo. Resta praticamente solo e va a vincere tranquillissimamente. Ancora una volta secondo posto per Sagan che non ha mai messo la squadra a tirare e ci sta assolutissimamente. Terza posizione per Consonni che ha fatto la ruota al posto di... No, terza posizione per oggi. Quarto Consonni che ha fatto la ruota al posto di Viviani. E quinta posizione per Rick Zabel della Israel Startup Nation, il figlio di Eric. Per quanto riguarda gli uomini classico ovviamente non ci sono stati distacchi in questa tappa. Nono Demar porta a casa il suo quattordicesimo successo in stagione quarto. In questa edizione il Giro d'Italia soltanto Arno Demar, soltanto Bernardino come francese è riuscito a portarsi a casa quattro frazioni al Giro d'Italia nella stessa annata. E niente, adesso domani ci sarà una tappa molto molto diciamo strana. La tappa dei nove colli sugli appennini dietro Cesenatico. Secondo me sarà una tappa dove però non succederà granché a Riveli Resi Leggera. Sarà una tappa che però ci darà moltissimo spettacolo. Sempre più Maglia Ciclamino, Nonno Demar. Vedremo alla prossima occasione per i velocisti che potrebbe essere venerdì come potremmo ormai aspettare l'ultima occasione di Asti. Non si sa, vedremo venerdì che cosa succederà. Io ragazzi ho terminato questo post tappa per quanto riguarda l'uncesima frazione del Giro d'Italia. Noi ci vedremo presto e ciao a tutti.